Buon pomeriggio, prima corsa del convegno di Erno, il premio Nastro Azzurro, un miglio per anziani a reclamare, interpretati dai gentlemen. Tutti in prima fila i sette concorrenti che sono con l'uno Sassuolo, il due Soriano San, il tre Simpli Road, il quattro Ovvio di Azzurro, il cinque Nembo Dulac, il sei Ramona LJ e il sette Pari De Masch con il due di Soriano San che è partito con cautela al pari di Ramona LJ mentre sbaglia Pari De Masch brevemente. Sbaglia più a lungo invece Nembo Dulac e per il comando lottano Simpli Road e Ovvio di Azzurra davanti a Sassuolo, poi Pari De Masch che vi dicevo si è ripreso in fretta e precede Soriano San, ha sbagliato anche Ramona LJ. Il lancio in 14 scarso, ora c'è l'errore anche per Sassuolo e Ovvio di Azzurra ha spazio per accodarsi a Simpli Road precedendo Pari De Masch in segue Soriano San. Questi sono i quattro superstiti, gli altri fuori corsa con Simpli Road e Gianni Manzone che cercano subito di ridurre drasticamente l'andatura. Seguiti da Ovvio di Azzurra, Pari De Masch e Soriano San che dopo essersi ricongiunto agli altri prende la via del largo e punta Battistrada. Battistrada che ha completato i 600 iniziali in un comodo 46,9. Soriano San insiste a largo e va al Salchi di Simpli Road in Corda Ovvio di Azzurra e Pari De Masch. Paletto di metà gara con allungo da parte di Simpli Road per replicare a Soriano San in 1,2 e mezzo sul piede dell'1,18 con Soriano San che ora avrebbe spazio per accodarsi a Simpli Road e lo fa dopo un giro da 1,17. Simpli Road leader su Soriano San, Ovvio di Azzurra e Pari De Masch. Quando siamo all'imbocco della curva finale con Simpli Road che difende bene la posizione, i 1200 metri sono in 1,31 secco. Ha sbagliato Soriano San e allora Simpli Road sta per affrontare in larghissimo vantaggio la retta di arrivo nei confronti di Ovvio di Azzurra sul quale sposta Pari De Masch. In chiarissima evidenza Simpli Road quando siamo al paletto dei 200 finali dove Pari De Masch va su Ovvio di Azzurra. C'è ancora anche Sassuolo in corsa ma credo sia già squalificato Simpli Road che fa passerella negli ultimi 100 metri. Vince come vuole nelle mani di Gianni Manzone nei confronti di Pari De Masch è Ovvio di Azzurra. E dunque 3,7 e 4 l'arrivo ufficioso della prima di Capannella. 2,3 sul mio cronometro media di 1,16 e 9 per Simpli Road da un capo all'altro oggi con Gianni Manzone per i colori da Scuderia Tor il training di Warner Martellini. Nettissima al traguardo Simpli Road mentre Pari De Masch ha battuto Ovvio di Azzurra per il posto d'onore. 3,7 e 4 l'arrivo ufficioso della prima di Capannella. 3,7 e 4 l'arrivo ufficioso della prima di Capannella.